Le quattro morti di Pierpaolo Pasolini, di Gian Maria Cervo con la regia di Pep Gattei, è uno spettacolo intenso e carico di energia, durante il quale un'app sul cellulare guida lo spettatore e rende il tutto interattivo. È andato in scena, ma anche oltre la scena, in un piccolo teatro ricavato in un plesso scolastico a pianura, in una delle periferie nelle quali si sta animando il progetto Affabulazione, sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Come evidenzia Andrea Mazzucchi, delegato del Sindaco di Napoli per la programmazione culturale integrata. Affabulazione è questo progetto del Comune di Napoli insieme col Ministero della Cultura che punta a portare cultura nella città policentrica che Napoli rappresenta. Dunque, spettacoli teatrali in primo luogo, ma non solo, nelle periferie della città che appunto, come ama dire il nostro sindaco, sono in realtà altri centri della città. Sullo sfondo della PIS, il rapporto tra Pasolini e Napoli, in una affabulazione creativa che aveva spinto il poeta drammaturgo a riconoscere in questa città una unicità assoluta. Ma anche immagini, nate dalle osservazioni del drammaturgo Gian Maria Cervo, dei dipinti di Nicola Verlato, pittore italiano neocaravaggesco. Le quattro morti di Pierpaolo Pasolini è un progetto di drammaturgia polifonica che parte dalla mia osservazione dei quadri di un grande amico pittore, Nicola Verlato, che trasla, colloca le morti di Pasolini in altri contesti storici che sono parenti alla morte di Ostia. Quindi Pasolini diventa Cristopher Marlo, diventa uno dei due gracchi e poi si incontra con Caravaggio nella famigerata partita del 1606 a Pallacorda a Roma. È un testo che vuole creare un surplus di riflessione rispetto a una figura che molto spesso è vittima di cliché e di generalizzazioni e speriamo di riuscire a farlo anche grazie all'apporto della Fura del Baus che sicuramente porta il pubblico all'interno del gioco teatrale facendolo diventare anche attore.